Siamo 110 tesserati a livello giovane, 100 adulti, perciò infatti noi siamo una società che si dice dai 6 anni agli 80 anni, però i risultati non mancano, stanno venendo anzi sempre molte più persone e credo che con questa pista nuova ci avremo molti più tesserati, abbiamo una società strutturata e ringrazio l'amministrazione comunale perché ci darà veramente la possibilità di organizzare delle manifestazioni a livello giornale e sviluppare ancora molto più il settore di vita e amatoria. E' una pista che viene utilizzata anche molto dalle scuole? E' una pista, per fortuna lo Stato di Priliperi è in centro della città, perciò è utilizzata molto dalle scuole, E' importante perché in questo momento anche di pandemia poter avere un impianto idoneo per fare sport in sicurezza e in maniera perfetta.